Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un taglia polistirolo ad arco, ad archetto. È un taglia polistirolo che funziona con 4 batterie stilo, è facile da utilizzare e può essere utilizzato per lavori di modellismo, realizzazione di plastici, per lavori nei presepi e tutte le volte che occorre tagliare del polistirolo. Quindi per lavori dedicati alla creatività proporremo alcuni esempi di come è possibile utilizzare questo taglia polistirolo e come funziona facilmente, come è facile utilizzarlo. Buona visione e vi aspettiamo per un altro nostro video. Se volete potete anche iscrivervi al nostro canale. Grazie, a presto. Grazie. 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 Grazie.